Aspettavo da molto questo momento con ansia e quando il mister ha detto che sarei entrato ho provato un po' di emozione, però appena ho messo piedi in campo mi sono concentrato e sono passati questi minuti. Sì, ci siamo abbassati lavorosamente, abbiamo perso molti metri e abbiamo smesso di giocare soprattutto, non abbiamo più avuto il fraseggio che invece a sprazzi si è visto nel primo tempo che nel primo tempo a parte la partenza secondo me siamo andati bene, potevamo sfruttare meglio alcune occasioni, uguale nel secondo tempo, abbiamo avuto un'occasione abbastanza importante anche nel secondo tempo che potevamo sfruttare meglio però dovevamo essere appunto più cinici e non lo siamo stati e dobbiamo lavorare anche su questo. Davanti sono molto molto forti e quindi non bisogna assolutamente sottovalutare. Il ritmo è sicuramente molto diverso, c'è molto più intensità rispetto alla Primavera e infatti l'ho notata anche nella partita di Domenica, però credo che ci si abitui anche allenandosi bene. Inoltre c'è il pubblico che in Primavera manca e qua invece si fa sentire, quindi è un altro aspetto che cambia dalla Primavera alla Serie C.